Buonasera a tutti vi do il benvenuto in questo webinar sulla valutazione delle competenze digitali come sapete questo è il secondo di un ciclo di webinar con il quale abbiamo l'obiettivo di vedere insieme di avere degli aggiornamenti sui diversi fronti che riguardano la promozione delle competenze digitali della cittadinanza questi incontri saranno anche l'occasione per condividere buone pratiche anche come questo in particolari e fornire indicazioni per lo sviluppo delle competenze digitali con questi webinar che sono iniziati vi ricordo martedì scorso vi terremo compagnia tutti i martedì sino al mese di luglio sino alla fine di luglio in realtà martedì prossimo non ci saremo e torneremo direttamente martedì 21 quindi abbiamo visto martedì scorso gli aggiornamenti sul quadro europeo delle competenze digitali per i cittadini il digit comp arrivato alla versione 2.2 mentre vi anticipo che il prossimo webinar quello di martedì 21 sarà sulla produzione di risorse per la formazione online troverete tra pochi giorni forse sin da domani la scheda su eventi pia e vi potrete quindi iscrivere vediamo in particolare il webinar di oggi quindi abbiamo detto siamo sul tema della valutazione delle competenze digitali vedremo insieme quindi con i relatori di oggi eh alcuni strumenti tra quelli più recentemente sviluppati a partire dal quadro europeo per le delle competenze digitali per i cittadini vedremo insieme faremo anche una sorta di confronto vedremo proprio quali sono state da ciascuno strumento le dimensioni prese in considerazione qual è stato l'approccio valutativo quali sono stati i target diversi contesti di applicazione e cercheremo di vedere anche le esperienze realizzate passo quindi a presentare i relatori di oggi avremo un'introduzione che farà Isabella Bruni dell'università di Firenze vedete già in video Isabella e del dipartimento per la trasformazione digitale quindi con lei vedremo proprio il tema della valutazione delle competenze digitali poi vedremo con Alteo Valentini eh in particolare l'associazione All Digital e poi vedremo in particolare lo strumento MyDG Skills di eh è una sorta diciamo più di autoriflessione sulle competenze digitali vedremo meglio con lui di cosa si tratta poi con Alessio Misuri di Dintec Union Camera vedremo invece Digital Skill Voyager che è una sorta di viaggio nelle competenze digitali per testare il proprio livello uno strumento messo appunto ehm da Dintec Union Camera poi con Viola Pinzi rappresentante della Digital Skills and Jobs platform vedremo proprio la piattaforma europea per le competenze digitali appunto con il test per la valutazione delle competenze digitali e infine vedremo con Marco Gui dell'università Milano Bicocca mh Digital IQ in particolare che anche questo è una sorta di viaggio questa volta un viaggio nello spazio per mettere alla prova le proprie competenze digitali eh il webinar si chiude alle sedici io vi ricordo di porre in chat le domande per i relatori questa volta ogni relatore risponderà alle domande sul suo intervento alla fine del proprio intervento quindi le potete porre anche subito nel senso nel momento in cui vengono in mente e ogni relatore risponderà alla fine vi ricordo ancora che nella scheda di eventi PA saranno presenti la registrazione del webinar e anche le slide di tutti i relatori e a questo punto mi taccio auguro buon webinar a tutti e do la parola a Isabella Bruni prego Grazie Roberta eh innanzitutto vi porto i saluti anche di Nello Iacono il coordinatore di Repubblica Digitale che oggi non è qui ad aprire con noi il webinar ma che eh ovviamente diciamo eh ci segue a distanza eh una breve introduzione sul tema della valutazione delle competenze digitali tema che eh diciamo è eh affrontato e al centro di discussioni ormai da più di una decina di anni da quando eh sostanzialmente si discute anche sulla definizione di competenza digitale e da quando nel nostro ambito di lavoro insomma diciamo nella eh pedagogia nella didattica eccetera si è affermato anche proprio eh il il costrutto di eh competenza eh un tema fondamentale anche eh per i risvolti diciamo che ha rispetto poi a cosa facciamo con questa valutazione eh volevo innanzitutto partire da nominando due fattori di complessità che riguardano la valutazione delle competenze digitali e sono sicura che in questo incontrerò in qualche modo anche eh il riscontro insomma forse il sorriso dei relatori e di coloro che quindi si sono cimentati nella costruzione di strumenti eh finalizzati proprio a valutare le competenze. Il primo elemento di complessità è proprio il costrutto di competenza in quanto tale no? Quindi eh questa è un costrutto eh denso complesso che eh non guarda solo alle conoscenze e alle abilità ma anche alla ehm diciamo capacità che il soggetto ha di mobilitare le proprie risorse in termini generali quindi sto parlando anche di risorse personali nonché di risorse sociali nelle situazioni reali nei contesti reali in cui vive quindi possiamo pensare al mondo del lavoro al mondo dello studio ma anche alla vita personale quella di di tutti i giorni. Eh competenza quindi ha a che vedere col nostro grado di responsabilità e anche con il nostro grado di autonomia nel eh portare a termine diciamo nell'affrontare le situazioni che ci si presentano durante la nostra eh la nostra vita e ovviamente se eh avete presente un po' quello che è il quadro europeo della competenza digitale per i cittadini eh questi termini responsabilità e autonomia vi richiameranno anche i livelli di competenza no? Quindi a un maggior livello di autonomia corrisponde un maggior livello di eh competenza eh digitale. Eh diciamo che appunto la competenza si eh traduce come ehm il riuscire a eh portare a termine un compito in una situazione nuova no? Quindi eh in qualche modo questo rende complesso il valutarla nei momenti in cui non ci troviamo magari eh fisicamente presenti con il soggetto e non possiamo fargli fare effettivamente sottoporgli un problema da risolvere. Eh perché non lo possiamo fare? Ovviamente ci sono dei limiti strutturali e anche eh come dire la la l'impossibilità poi di ehm fornire strumenti che eh possano essere utilizzati da un altro numero di persone se richiedono la presenza e anche la con una complessità così tale dei dei diciamo delle azioni da portare a termine. Il secondo fattore di complessità riguarda proprio la definizione di competenza digitale. Eh da diversi anni diciamo tutto il lavoro di policy dell'Unione Europea ci ha fornito un quadro di riferimento eh e quindi una definizione di competenza digitale che probabilmente conoscete oppure vi vi invito anche andare a rivedere il webinar della scorsa settimana in cui si presentava l'ultimo aggiornamento del quadro europeo delle competenze digitali dei cittadini. Quindi eh diciamo che appunto ehm competenza digitale è un termine ombrello eh sotto al quale possiamo collocare conoscenze, abilità, attitudini del soggetto e che quindi ovviamente può anche essere un concetto che si diversifica a seconda eh dei contesti eh nei quali noi lo andiamo a definire. Cosa voglio dire? Intendo ovviamente che ehm possiamo definire la competenza digitale in un modo se ci riferiamo ai cittadini ma se probabilmente guardiamo eh alle ai soggetti che devono guidare la transizione digitale eh pensiamo anche a competenze avanzate di e-leadership e quindi la definizione stessa di competenza digitale può cambiare. Così come la definizione di competenza digitale può in qualche modo eh cambiare o crescere eh con l'andare avanti del tempo e con l'emergere anche eh di nuove dimensioni. Questo proprio l'abbiamo visto anche nell'aggiornamento del GIGComp 2.2. Eh una breve panoramica sulle strategie di valutazione che eh diciamo vengono comunemente adottate, no? Questo è un lavoro di qualche anno fa che aveva monitorato oltre una ventina di strumenti di valutazione delle competenze digitali e che aveva individuato quattro possibili strategie. La prima è proprio la performance assessment, no? Quindi proprio chiedere di portare a termine un compito, una procedura, un individuo in un contesto che può essere reale o simulato, però che in qualche modo ci riporta a proprio quella definizione di competenza come eh capacità di mobilitare le risorse eh e quindi di agire, di autoregolarsi in situazioni nuove. Il secondo approccio è quello probabilmente più classico, quindi una eh un assessment basato sulle conoscenze e che quindi è quello che viene realizzato con le domande a scelta multipla eh in modo da eh verificare il possesso o meno di una determinata conoscenza o anche la capacità di individuare la giusta azione da compiere da parte di un soggetto. Eh c'è poi una strategia che è quella invece del self assessment quindi anche di eh chiedere al soggetto di autovalutare il proprio livello di competenza eh rispetto a diversi argomenti e diverse eh attività. Ovviamente qui si può andare incontro anche a una eh sopravvalutazione o anche a una sottovalutazione del soggetto rispetto a quello che è il proprio grado di eh competenza. L'ultima strategia diciamo che è una strategia più complessa quindi con la raccolta e l'analisi di dati secondari e che quindi non serve tanto al singolo cittadino, al singolo individuo per avere una valutazione del proprio livello di competenza ma più a cercare a creare degli indicatori che ci eh descrivono una popolazione più ampia e qui il riferimento per esempio è al eh DESI quindi all'indice che eh conosciamo e che riguarda le competenze digitali. Eh perché è così importante valutare le competenze digitali? Possiamo sicuramente avere almeno due prospettive, quella del soggetto e quella delle organizzazioni. Quindi da un punto di vista personale noi potremmo essere interessati a valutare eh il nostro livello di competenza digitale anche per eh capire quali sono le nostre lacune quindi per poter eventualmente investire nella nostra formazione o anche nel nostro sviluppo personale quindi professionale quindi ovviamente ehm i due ambiti sono eh quello personale e quello professionale sono ambito coinvolti da questo tipo di eh valutazione. Eh c'è poi anche eh la possibilità di voler valutare le proprie competenze ai fini di ricevere una certificazione, un badge, una qualche riconoscimento più o meno ufficiale che noi possiamo poi eh spendere diciamo anche nel mondo professionale e mentre cerchiamo eh un lavoro. A livello di organizzazione ovviamente è molto interessante anche andare a valutare il livello di competenza digitale del proprio personale per poter eh pianificare eventuali azioni di upskilling e reskilling quindi insomma anche per poter potenziare le competenze a livello della propria organizzazione così come per poter identificare coloro che potrebbero in qualche modo gestire e sviluppare i processi di transizione digitale all'interno delle eh organizzazioni complesse. Va da sé ovviamente che la valutazione delle competenze digitali è anche utile e fondamentale ehm in relazione ai percorsi di ehm formazione e di facilitazione digitali quindi è eh un'azione che tipicamente noi facciamo prima di un corso e poi alla fine diciamo del nostro intervento per poter verificare se ehm questo intervento effettivamente ha prodotto un cambiamento quindi se il livello di competenza eh è cresciuto rispetto a quello che era eh il livello iniziale. Eh come dei tradizioni in questi webinar ehm ci interessa anche stimolare da subito la vostra partecipazione e quindi abbiamo preparato una serie di domande per capire eh quella che è anche la vostra esperienza personale relativamente alla valutazione delle competenze digitali. Eh quindi eh mi piace dire invito la regia ad attivare il sondaggio forse immagino devo uscire dalla condivisione per rendervelo visibile direttamente all'interno dell'ambiente eh di zoom dovreste visualizzare eh in sovraimpressione una finestra con il sondaggio dove trovate tre domande no? Che quindi eh riguardano direttamente voi e la vostra esperienza o meno con la valutazione delle competenze digitali. Vi chiedo quindi di rispondere a queste domande. Eh la prima domanda è se avete mai valutato le vostre competenze digitali e in particolare eh ci interessa anche sapere se per esempio l'avete già fatto utilizzando uno degli strumenti che verranno poi presentati più nel dettaglio nel webinar di oggi e che Roberta ha nominato eh brevemente nell'introduzione o se magari l'avete fatto con un altro strumento insomma che non è ehm oggi eh presentato. La seconda eh domanda riguarda invece i risultati che avete ottenuto e quindi per capire anche se eh il risultato del dello strumento utilizzato eh più o meno ha corrisposto alle vostre aspettative eh oppure no. Quindi eh per capire quanta distanza c'era fra la vostra percezione di livello di competenza e quello che poi effettivamente è stato il risultato eh che avete ottenuto. Vedremo che anche gli strumenti che presentiamo oggi eh diciamo dedicano un'attenzione particolare anche all'aspetto della reportistica quindi ehm si va da un maggiore o minore dettaglio eh per anche indirizzare eventuali aree di miglioramento e quindi far capire al soggetto eh quali sono poi gli argomenti, i temi, le capacità su cui eh dovrebbe lavorare eh maggiormente. La terza domanda riguarda la motivazione per cui avete eh valutato le vostre competenze digitali oppure se non l'avete mai fatto vi chiedo di dirci eh perché pensate che possa essere importante valutare le competenze digitali. Quindi o per un motivo personale o per appunto eh organizzarvi nella formazione o anche per esigenze lavorative eh o altre eh o altri aspetti. Eh vedo in chat ehm Claudia che ci segnala qualche eh problema nelle risposte però credo che dovrebbe funzionare eh dovreste poter vedere tutte e tre le domande contemporaneamente e eh una volta che avete selezionato la risposta alla prima domanda potete rispondere alle altre diciamo non ci sono delle dei vincoli quindi dovreste poter rispondere a tutte e tre le domande ehm senza problemi. chiedo eventualmente confermo alla regia se stanno arrivando le risposte. Vi lascio comunque qualche eh minuto per pensarci e per rispondere e poi commentiamo i risultati. Isabella al momento hanno risposto circa il sessanta per cento dei partecipanti quindi valuta tu quando terminare il sondaggio. Ok. Aspettiamo giusto quanto riguarda eventuali problemi di tecnici potrebbero dipendere dal dal fatto che ci si è collegati con il browser e non con l'app di Zoom e questo potrebbe comportare qualche problema. Prego. Ok. va bene allora direi di visualizzare le risposte così eh intanto abbiamo una prima mappatura. Allora eh intanto vediamo che un pochino meno del trenta per cento dei eh partecipanti di coloro che hanno risposto al al sondaggio che sono comunque centoventinove persone eh non ha mai ancora ha valutato le proprie competenze. Mentre oltre il quaranta per cento lo ha fatto utilizzando uno degli strumenti che vengono presentati oggi nel webinar e quasi un trenta per cento lo ha fatto utilizzando altri eh strumenti. Ehm la maggior parte dei rispondenti ha avuto un risultato che era in linea con le proprie aspettative quindi questo mi sembra anche un un riscontro interessante rispetto eh poi alla alla capacità di autovalutare di percepire anche quello che è il proprio livello di di competenza quindi ehm un riscontro interessante anche per quelli che possono essere gli strumenti di autovalutazione. E infine rispetto alle motivazioni eh vediamo che eh diciamo quaranta e quaranta eh per cento o per orientare la formazione o per esigenze lavorative. La curiosità personale comunque c'è intorno al dieci per cento e poi ci sono altre motivazioni intorno al cinque per cento. Insomma quindi eh chiaramente ehm la maggior parte di voi ha eh proprio inteso valutare le competenze digitali per poi come dire agire, formarsi, migliorare le proprie competenze o anche per poter spendere questa certificazione e questo titolo all'interno del mondo del lavoro. Vi ringrazio per aver partecipato al sondaggio così abbiamo un po' anche ehm come dire rotto il ghiaccio. Vi ricordo che se avete poi delle successive domande le potete inserire in chat e lascio la parola a Roberta per la gestione del webinar. Perfetto grazie molto Isabella di questa ottima introduzione che ci ha inserito perfettamente nel tema proprio della valutazione delle competenze digitali. In questo modo possiamo anche capire meglio rispetto agli strumenti che ci vengono presentati proprio quale l'approccio, quali sono i contesti, il target e l'obiettivo. Quindi passiamo subito con Alteo Valentini di AllDigital a a vedere in particolare lo strumento MyDigiSkiss di autoriflessione sulle competenze digitali. Ti vedo in video e ti lascio il campo. Prego Alteo. Grazie mille Roberta, grazie a tutti e benvenuti. Io come giustamente ha detto Roberta in presentazione andrò a presentare uno strumento che può essere considerato più uno strumento di autoriflessione piuttosto che uno strumento di valutazione o autovalutazione delle competenze digitali e proprio per spiegare come mai abbiamo sentito la necessità di sviluppare un tale strumento vorrei prima dare qualche informazione di contesto. Innanzitutto AllDigital è la rete europea che io ho il piacere ormai da più di un anno di rappresentare come presidente e come vedete insomma secondo il nostro motto è la rete che si occupa di rafforzare le competenze digitali in Europa. Un'associazione che nasce originariamente chiamandosi Telecenter Europe quando poi tutta Europa forse un po' meno in Italia l'obiettivo l'obiettivo principale le organizzazioni si chiamavano telecentri e l'obiettivo principale era appunto fornire internet alle persone e ai cittadini. Oggi dopo dodici anni l'associazione conta circa venticinque mila centri per lo sviluppo delle competenze digitali raggiunte da i nostri settantotto membri che sono appunto per la maggior parte reti e reti di centri e reti di reti addirittura. Il nostro obiettivo è quello di sostenere i nostri membri nel dotare le persone di competenze digitali di farlo con sicurezza appunto di sviluppare questo mindset, questo approccio mentale diciamo su considerare la trasformazione digitale non tanto un pericolo o qualcosa che porti appunto cambiamenti negativi ma piuttosto cercare di indirizzare la trasformazione verso un impatto positivo sulla natura, sulla società e sul proprio sviluppo personale e professionale. Per far sì che questo avvenga ovviamente una riflessione iniziale su quello che è il livello di partenza delle proprie competenze digitali è forse lo step precedente a poi i vari strumenti di prima valutazione in entrata, poi ovviamente formazione e valutazione in uscita dai vari percorsi e occasioni di formazione offerti dai nostri membri. A colpo d'occhio che cos'è All Digital? Già ho detto il numero delle organizzazioni, questo va modificato, ora siamo 78 non più 74, raggiungiamo tantissimi formatori soprattutto nel mondo dell'educazione formale non formale di primo o secondo livello, abbiamo due attività principali durante l'anno che appunto ci permettono di diffondere la cultura delle competenze digitali e per quanto riguarda il tema di oggi, per chi fosse interessato a un confronto anche sul piano europeo su questo tema, ospitiamo in realtà due comunità di pratica, una dedicata in modo particolare sul framework Digicomp e l'altra invece proprio sul discorso della certificazione delle competenze. La prima quella su Digicomp è direi operativa al 100% e attiva anche in un contesto di utilizzo del framework per la valutazione delle competenze, la seconda invece è più orientata e a scambiare opinioni e esperienze su quello che la Commissione sta sviluppando come certificazione delle competenze, quindi sui vari strumenti e le varie iniziative relative alla certificazione. Questo era il contesto diciamo storico e geografico per andare a introdurre invece lo strumento dal punto di vista del contesto delle polisi. Il manifesto è il nostro strumento principale anche di aggiornamento dei nostri membri e di chiunque fosse interessato a 360 gradi sulla sulle sulle polisi dell'educazione alle competenze digitali e non andando, ovviamente non potendo andare a fondo, si basa su questi cinque pilastri. Il pilastro numero 4, approccio europeo alle competenze digitali, è fondamentalmente dedicato in toto a quello che è il tema del webinar, quindi alla validazione delle competenze. Come lo affrontiamo? Lo affrontiamo ritenendo Digicomp una parte integrante della risposta all'impatto della transizione digitale e quindi promuovendo nell'utilizzo in modo non solo funzionale ma anche strategico per tutti coloro che sviluppano strumenti o quadri di validazione. Attraverso le nostre attività di comunicazione, in particolare l'invito alla Commissione a sviluppare un profilo delle competenze digitali che permette appunto ai vari Stati europei di riferirsi, ai vari Stati e ai vari soggetti che operano nei Stati europei, di riferirsi a uno standard comune, collegato direttamente ovviamente a il tema del riconoscimento e della mobilità e quindi anche a tutto ciò che ha a che fare con le credenziali digitali e tutte le iniziative che portano a permettere la mobilità dei cittadini all'interno dell'Unione. E infine come dicevo la certificazione con lo European Digital Skills Certificate. Bene, andando al sodo appunto della presentazione, nel nostro percorso verso la promozione delle competenze digitali abbiamo ritenuto opportuno dotarci anche di uno strumento che appunto permettesse questa attività di cui parlavo prima, ovvero un'autoriflessione sulle competenze digitali. Lo strumento è disponibile online, è stato lanciato il 23 marzo del 2021, copre tutti e sei, copre i sei livelli di competenza del Digicomp 2.1, quindi è stato sviluppato appunto sul precedente framework e parte da una ricerca svolta con un progetto che appunto si chiamava DigicompSat che ha in qualche modo sviluppato il database di domande e le logiche su cui poi dopo abbiamo prodotto il tool vero e proprio. Attualmente è disponibile in 11 lingue, anche grazie a, ovviamente anche in italiano, anche grazie al contributo dei vari partner appunto che hanno fatto parte di questo progetto, uno su tutti il partner tecnico Apex che si è occupato dello sviluppo del software, ma poi come vedete anche Repubblica Digitale che lo, oltre alla traduzione in italiano, insomma lo sta sviluppando e integrando nei vari piani di promozione delle competenze, i vari strumenti che sono descritti nel piano attuativo del programma. Torno indietro giusto per spiegare appunto come siamo arrivati al database di domande che compone MyDigiSkills, il progetto DigicompSat di cui vi parlavo commissionato dal JRC di Sevilla a AllDigital si è concluso nell'ottobre del 2020 e che cosa ci ha permesso di fare? Ci ha permesso effettivamente di non solo creare il set di domande, ma anche di condurre dei test pilota con numeri e target sufficienti e necessari per arrivare a una validazione scientifica di 82 domande legate a Digicomp, comprendenti tutte e 21 le competenze sui vari livelli proposti dal framework 2.1, ovvero foundation, potremmo dire livello base, intermediate e avanzato. Da DigicompSat a MyDigiSkills, l'obiettivo che ci siamo posti principalmente appunto è stato quello di puntare allo sviluppo di qualche cosa che ci permettesse di poi andare a intraprendere passi formativi per colmare i gap identificati e o addirittura svolgere una valutazione più approfondita. Quindi anche un po' in risposta a quelli che sono le necessità dei nostri membri che ovviamente fanno riferimento a diversi schemi nazionali, a diverse politiche regionali, anche in alcuni casi per lo sviluppo delle competenze e anche direi a diversi framework e strumenti che funzionano, che hanno dato prova di funzionare molto bene nei loro contesti, l'obiettivo principale era proprio quello di fornire qualcosa che permettesse l'istradamento del processo di prima valutazione e poi formazione delle competenze digitali del cittadino e dell'utente, infine, alla fine dei conti dei nostri membri. A gennaio 2021 c'è stata la versione spagnola, la prima versione multilingue è stata pubblicata a marzo del 2021 e oggi è in finalizzazione quello che ritengo essere uno delle opportunità, delle sezioni più importanti dello strumento, ovvero l'apertura a terze parti che permetterà, poi come vedremo, proprio la possibilità a chiunque di adottare lo strumento e integrarlo nei propri processi valutativi e formativi. Il progetto Accedi sta facendo questo curandone la versione italiana, ad esempio. Abbiamo già parlato dei partner, come si usa? Esistono due percorsi alla registrazione che è comunque necessaria per effettuare il test e c'è la possibilità di una libera navigazione oppure sempre nell'ottica dello strumento relativo alle terze parti, quindi a soggetti esterni al MyDG Skills, cliccando su un link che viene inviato dall'organizzazione considerata terza parte. Questa registrazione consente di fare una pausa e riprendere il test, anche perché il test di per sé, essendo composto da cinque sezioni su cui vengono proposte 82 domande, è comunque un test che richiede una media di 20 minuti per essere completato. pertanto la possibilità di mettere in pausa e riprenderlo non è solo funzionale all'auto riflessione sulle competenze, ma anche proprio a chi vuole utilizzare il tool nel contesto di altri strumenti, altri percorsi di validazione e di formazione. permette poi di ricevere via mail il report dei risultati e quindi di poterlo utilizzare in futuro per pianificare percorsi individualizzati di sviluppo delle competenze digitali e di accedere ad un'area personale ovviamente per andare a rivedere i risultati, svolgere nuovi test e alla fine dei conti in realtà avere un vero e proprio profilo personale delle competenze digitali. Questo è una schermata di come appunto appare il test. Ci sono due barre di avanzamento, una quella in blu che riguarda la barra di avanzamento complessivo del test e poi una barra in verde che invece si riferisce alle cinque aree di competenze di G-Comp. La domanda viene presentata in grassetto e per ogni domanda vengono proposte quattro opzioni di risposta tipo relative alla propria conoscenza, alla propria abilità o alla propria attitudine. Ecco, a differenza, a seconda della tipologia di domanda che si propone, pertanto l'utente ha la possibilità di selezionare, come dire, un livello più o meno alto di conoscenza del tema, di abilità qualora la domanda o l'affermazione, diciamo così, si riferisca al saper fare e di attitudine rispetto a le pratiche che si mettono in atto nei confronti delle competenze digitali. Questo, la compilazione del test, porta pertanto a sviluppare un report, ovviamente individualizzato, dei risultati che si basa su codici di colore e su livelli percentuali, legati ovviamente ai colori, dove tra il 0 e il 10% si ha un livello basso di conoscenza, abilità o attitudine, tra il 10 e il 33% a un livello base e a seguire 33,66 intermedio più del 66 avanzato. Le barre ovviamente vengono rappresentate in modo visivo e mettendo in evidenza dapprima le cinque aree di competenza in modo generalizzato e poi subito accanto le 21 competenze specifiche legate ovviamente a ciascun'area. Ecco, quello che si è cercato di fare sviluppando lo strumento è stato appunto pensare anche ad applicazioni diverse dello stesso. Studi sono stati fatti ad esempio sulla possibilità di avere una versione semplificata, molto più breve, dello strumento che permette, come sembra essere stato dimostrato, comunque per quanto riguarda ovviamente non le competenze specifiche, ma l'area di competenze digicomp generali, di avere dei risultati sufficientemente realistici e comunque utili per quello di cui parlavo, ovvero la pianificazione e progettazione o in autonomia o supportata dello sviluppo delle proprie competenze digitali. Lo strumento per le terze parti è in fase di conclusione. La preparazione in realtà, se andrete a visitare il sito internet, non troverete al momento le linee guida che sono appunto necessarie per effettivamente renderlo operativo, ma ne troverete già una descrizione. Cosa accade? Qualora si volesse svolgere un test su un gruppo di studenti, ci si può registrare e creare un codice test che poi verrà condiviso in modo autonomo, attraverso il canale che si preferisce, verso questo gruppo di utenti. Il codice verrà inoltrato, permetterà di utilizzare appunto la piattaforma con delle specifiche credenziali in versione anonima e generando un gruppo di risultati che ovviamente sono fruibili sia in versione individuale, sia nel profilo individuale, ma cosa interessante anche relativamente al gruppo generato dal codice. Quindi ci permette di veramente svolgere sperimentazioni e simulazioni su il nostro gruppo target specifico. Questa velocemente è la vista parziale dell'area privata, quindi quello a cui si può accedere per generare i codici e come vedete insomma si possono generare tanti codici quanti sono i gruppi con cui si vuole lavorare o tanti codici per quante sono i test e le sessioni di test che si vogliono condurre magari anche con lo stesso gruppo. Esempi di risultati sono questi, quindi come vedete assolutamente anonimo, focus sul genere, sull'età e il paese di provenienza, lo stato occupazionale e l'educazione. e subito ha l'impatto visivo una restituzione percentuale su quelli che sono le singole competenze delle cinque aree su cui ragiona lo strumento. Per quanto riguarda questa prima fase di attuazione dello strumento, nel 2021 sono state registrate 11.263 sessioni uniche, quindi diciamo compilazioni da utenti provenienti da 102 paesi diversi. Interessante vedere come sulle cinque aree di competenza, già con un dato abbastanza significativo, si evidenzia comunque una percentuale abbastanza alta per quanto riguarda l'area 1, alfabetizzazione informativa e dati, seguita da comunicazione e collaborazione, e poi a scendere l'area 5, risoluzione dei problemi, che è direi anche sorprendente in questo caso, perché normalmente viene restituita come una delle aree di meno consapevolezza e confidenza, diciamo così, da parte degli utenti con basse competenze. E questo è un dato che poi avrete riscontrato anche voi nei vostri progetti e nelle vostre attività, il più basso di tutti, uno tra i più bassi, l'area sulla sicurezza e la creazione di contenuti digitali. Sperimentazioni se ne sono fatte, fortunatamente sempre di più. Mi piace qui menzionare quella attuata dall'Università di Firenze, dove appunto l'obiettivo principale non era tanto quello di andare a valutare il livello di consapevolezza digitale del singolo studente o docente o personale tecnico o amministrativo, ma appunto andare a definire un piano strategico per la formazione interna o per le azioni formative proposte dall'Università. Questa sperimentazione è stata fatta già con 670 unità del personale amministrativo e con 440 di quello docente a contratto. Siamo in attesa di appunto avere la finalizzazione del test code per procedere poi con gli studenti e elaborarne i dati. Con questo non solo io, ma tutta la community di AllDigital vi saluta e vi ringrazia e per qualsiasi informazione potete contattarci a questo indirizzo. Grazie mille. Perfetto, grazie molte Alteo. Grazie anche per aver detto una cosa che avevo dimenticato io, cioè che il progetto ACEDIC è quello nell'ambito del quale si svolge questo ciclo di webinar raccurato la versione italiana di MyDigisKids, quindi grazie mille. Allora, vorrei rispondere solo a una domanda rapidissima che è arrivata in chat perché poi voglio dare la parola al relatore successivo. La domanda che è stata fatta da Emanuela era se questo strumento si colleghi in qualche modo al syllabus e le competenze digitali del Dipartimento della Funzione Pubblica e allora forse posso rispondere io almeno per ciò che so, nel senso che mi occupo per un altro progetto del syllabus delle competenze digitali del Dipartimento della Funzione Pubblica, direi che hanno due quadri vicini ma diversi, nel senso che MyDigisKids ha come riferimento il quadro delle competenze digitali dei cittadini, quindi Digicomp, mentre l'assessment del Dipartimento della Funzione Pubblica ha come riferimento il syllabus delle competenze digitali dei dipendenti della pubblica amministrazione. Quindi se le competenze digitali delle persone, voglio dire, si tratta sempre di persone, però nel momento in cui il syllabus ha dovuto proprio pensare i test sulle competenze digitali, lo ha fatto pensando, e anche ha dovuto costruire i materiali formativi, lo ha fatto pensando alle attività che un dipendente pubblico svolge nella propria funzione tutti i giorni, quindi alle competenze digitali che il dipendente pubblico deve avere in quanto svolge quella funzione, e non quindi pensando alle competenze digitali in quanto cittadino. Anche il syllabus delle competenze digitali prevede un test assessment che, così come si diceva prima, precede proprio l'attività formativa. Quindi adesso do la parola ad Alessio Misuri di Dintec Union Cameri, con cui vedremo invece Digital Skill Voyager, che è una sorta di viaggio nelle competenze digitali. Prego, Alessio. Grazie. Allora, vediamo se condivido correttamente. Mi conferma che vedete lo schermo. Lo vediamo. Perfetto. Vediamo. Sì, ci siamo. Ok, perfetto. Allora, grazie, mi fa molto piacere essere qua. Cercherò brevemente un po' di descrivere lo strumento Digital Skill Voyager, che è uno strumento che nasce all'interno di un'attività delle Camere di Commercio, ovvero dei punti in presa digitale. Prima, credo che sia utile, prima di parlarvi dello strumento in sé, che vi parli leggermente, che vi dia qualche informazione di cosa sono i punti in presa digitale. I punti in presa digitale nascono all'interno del framework impresa 4.0, anzi, allora industria 4.0 nel 2017, e a supporto della transizione digitale. Allora si chiamava il progetto, diciamo, riguardava l'industria 4.0, quindi la quarta rivoluzione industriale, ma di fatto è sempre il tema al centro della transizione digitale. quattro sono, come vedete, principalmente gli ambiti e le modalità di intervento. Il primo è quello di diffondere conoscenze attraverso dei servizi informativi e formativi che i punti in presa digitale, che sono poi gli uffici all'interno delle Camere di Commercio, realizzano e realizzano su tutto il territorio italiano. Sono 88, quindi punti presenti sul territorio e quindi prime modalità fisica, quindi con degli eventi, e poi causa anche la pandemia, sempre più con modalità web, quindi attraverso dei seminari, come quelli di oggi, danno informazione alle micro e piccole e medie imprese e quindi ai lavoratori. Da subito è stato chiesto, richiesto ai PID di creare una consapevolezza attiva nelle imprese. Cioè, che vuol dire? Vuol dire, appunto, di avere una modalità di strumenti di misurazione. Il primo, quindi, strumento che è stato chiesto ai punti in presa digitale è quello di creare dei modelli di assessment digitali. Quindi, assessment in questo caso non ovviamente delle competenze al concetto di oggi, ma degli assessment che riguardassero la struttura, l'organizzazione, la digitalizzazione delle imprese. E quindi sono stati creati due modelli di assessment, un self-assessment, una modalità di assessment che l'imprenditore poteva svolgere, può svolgere tuttora in maniera autonoma per verificare il proprio livello di digitalizzazione dell'impresa e poi un secondo livello di assessment dove dei digital promoter, ovvero del personale esperto formato all'interno delle camere di commercio, accompagna e verifica assieme all'impresa lo stato di maturità digitale dell'impresa e di più l'accompagna verso potenziali soggetti che possono dare ulteriore supporto in primis il Digital Innovation Hub, delle associazioni di categoria, verso il competence center, verso le università, verso altre strutture che possono comunque affiancarli. Va da sé che le camere di commercio hanno messo in campo anche dei voucher, quindi dei finanziamenti che possono coprire fino al 70% degli investimenti in tecnologia, in consulenza e ultimamente anche informazione delle imprese sempre sulle tecnologie 4.0. Le tecnologie 4.0 poi sono state definite dal MISI, nel 2017, e ce le portiamo, che sono sempre, diciamo, quelle, tra cui c'è la cyber security che sempre di più sta apprendendo la scena e a cui anche prima il tema della sicurezza è emerso come fondamentale. Ultimo, ma sicuramente non meno importante, è proprio il tema quello di accompagnare e aiutare le imprese. Da questo punto di vista, oltre, diciamo, agli strumenti e servizi, per noi ha significato creare una rete di digital promoter interni alle Camere di Commercio, fare formazione, sono oltre 200 i giovani ragazzi che sono stati formati e che sono all'interno delle Camere di Commercio proprio per dare supporto. A questi si uniscono gli oltre 400 digital coordinator che sono il personale di Camere di Commercio che in questi anni è stato, sicuramente, ha visto un forte impatto, una forte reskilling in alcuni casi delle proprie competenze e una rete di digital mentor che sono oltre 140 profili di alto livello che vengono chiamati dai digital promoter e dai digital coordinator a entrare, a scendere in campo direttamente con l'impresa magari per quelle imprese che hanno dei progetti di digitalizzazione più evoluti. Questa attività ad oggi ha consentito di raggiungere oltre 480.000 utenti, sono più di 270.000 vedete i numeri, quelli che hanno partecipato e partecipano ai corsi e ai percorsi informativi oltre 190.000 utilizzano tool che ogni camera di commercio realizza a seconda delle esigenze, oltre 44.000 le imprese che hanno fatto il self-assessment della maturità digitale e oltre 5.000 quelle che invece sono state accompagnate nel processo di valutazione della propria maturità digitale e oltre 6.000 quelle che a seguito di questo processo o negli altri momenti di incontro con i punti di impresa digitali sono stati reorientate e messe in collegamento con altri soggetti e network impresa 4.0 di cui vi parlavo prima. Va da sé quindi che la faccio molto breve se tutti siete sicuramente consapevoli del nostro punto di partenza quindi se i punti di impresa digitale hanno sempre operato dal punto di vista dell'impresa a un certo punto prendendo una metafora che non era mia che non è mia e quindi abbiamo portato abbiamo accompagnato le imprese a comprare le scarpe da tennis è chiaro che queste scarpe da tennis bisogna impararle usare bisogna imparare a correre bisogna insegnare quindi bisogna capire lavorare sulle competenze sempre di più delle imprese quindi quindi se le statistiche le conoscete siamo ventesimi nella posizione del desi le nostre statistiche di un'eocamera che attraverso Excel va a vedere la domanda della forza lavoro ci dice che il 48% della forza lavoro richiesta non possiede competenze digitali di base che invece vengono richieste il 22% possede competenze digitali avanzate quindi solo una parte del non ampia del lavoratore a questo tipo di competenze addirittura il 17% dice che non ha mai utilizzato l'interno come vi dicevo grazie proprio al dato di un camera accessor emerge che il 60,4% della futura forza lavoro deve possedere competenze digitali di base e il 36,2% dei nuovi occupati deve possedere competenze digitali avanzate quindi c'è un chiaro mismatch se volete tra quello che offre la forza lavoro attualmente è quello che viene richiesto dal mercato quindi il tema delle competenze entra in maniera decisa all'interno del del perimetro dei punti imprese digitali e quindi come se volete abbiamo fatto per l'impresa ci è sembrato giusto iniziare a lavorare su un test online una specie di strumento di knowledge base cioè di indagine delle competenze che pronesse non tanto non solo un'autovalutazione empirica ma cercasse di andare a sondare con alcune domande mirate tutta una serie di parametri che vedremo successivamente quindi cercare di proporlo a una platea di destinatari sicuramente che partiva dai lavoratori sia dell'APA che delle imprese imprenditori studenti ma soprattutto con un linguaggio e una modalità che fosse anche di gioco giovane quindi chiaramente il nostro target sono le fasce più giovani magari di neolaureati o giovani comunque lavoratori o giovani che comunque si affacciano al mondo del lavoro abbiamo cercato quindi di permettere attraverso questo percorso di arrivare a un report semplice spendibile facilmente anche leggibile dove all'interno del report finale ci fosse una descrizione del livello complessivo della maturità digitale del partecipante ma fornendogli anche dei benchmark man mano che le statistiche e i questionari venivano vengono compilati man mano che i test vengono svolti che fornisse un benchmark con altri profili similari così da avere una una comparazione istantanea per così dire cioè alla fine del test con altri profili simili a quello della di chi sta svolgendo il test ad oggi quali sono i livelli e i risultati raggiunti chiaramente quello che emerge è un quadro in cui il livello di maturità digitale è ancora nelle prime fasi in cui diciamo più del 60% dei rispondenti anzi più del 70% dei rispondenti si ritrova nelle prime due fasi neofita e allievo digitale e poco più del 27% vedete si colloca tra i coach e le leader da chi viene utilizzato da impiegati 35% vedete da studenti principalmente ma anche da altri profili i titoli di studio si va dalla laurea master diploma altro e altri titoli di studio in maniera abbastanza bilanciata le aree che sono risultate più avanzate sono quelle diciamo dove la percentuale di rispondenti è positiva sono quelle logiche diciamo così pensiero computazionale e coding quella più indietro e che forse si discossa leggermente rispetto al modello del dc comp 2.1 su quale da quale noi siamo partiti c'è da dire che appunto ogni area in ogni area noi abbiamo ripreso come in alcuni casi digitalizzazione base è evidente comunicazione condivisione il dc comp 2.1 riprendendo da lì le impostazioni per le domande di tipo teorico che vengono poste all'interno oltre alle domande di tipo teorico ci sono domande anche di diciamo così che stadi per andare a valutare principalmente due aspetti le hard skill per così dire quindi le conoscenze generali e le soft skill intese come comportamenti e modalità di azione e di modalità appunto di come si si mettono in discussione in gioco chi fa il test quindi in alcuni casi però abbiamo voluto integrare il dc comp 2.1 volendo andare più verso i lavoratori con ulteriori domande che magari appunto andavano a intercettare gli aspetti di gestione di managerialità o di anche di sostenibilità queste due ultime aree appunto sono quelle dove quindi si vanno a completare diciamo il set di informazioni proprio per avere un quadro più ampio del digitale digitale oggi perché appunto il digitale è sempre di più un ponte verso dal lato l'innovazione quindi l'introduzione la capacità anche di introdurre il nuovo all'interno dell'azienda perché i processi di digitalizzazione sono quelli d'intech oltre 20 anni che si occupa appunto di trasferimento tecnologico innovazione e i processi di digitalizzazione sono veri e propri processi di innovazione e quindi diciamo le dinamiche che il manager o comunque il lavoratore che si sta approcciando o il manager che deve provare a introdurre una nuova tecnologia sono vere e proprie dinamiche di innovazione dall'altro lato come dicevo il digitale è un punto anche verso i temi della sostenibilità quindi avere per noi è stato importante introdurre anche queste ultime aree proprio per completare il profilo che volevamo avere del lavoratore o neolavoratore quindi vado in chiusura e naturalmente lascio un po' di tempo per le domande come mi era stato chiesto le ad oggi hanno utilizzato oltre 7500 utenti hanno utilizzato la skill voyager circa un anno e mezzo che lo stiamo mettendo online ci tengo a dire che è stato sottoposto a un processo è sottoposto a un processo di revisione delle domande in termini qualitativi e quantitativi per capire appunto se alcune domande magari hanno delle percentuali risposte particolarmente basse o particolarmente alte quindi si scossano da una linea diciamo domande similari si basa su oltre 100 domande che vengono in realtà riproposte e generate in maniera randomica a seconda ovviamente dell'area e della tipologia a chi fa il test in realtà è trovato sempre davanti a un test differente quindi è un ci sentiamo dire si basa su grazie alla collaborazione con l'università di Pisa l'università di Siena si basa su delle solide base anche metodologiche che vengono continuamente monitorate stiamo lavorando appunto all'aggiornamento per il dccom 2.2 sicuramente abbiamo cercato di proporre qualcosa che avesse un minimo di innovatività utilizzando questa tecnica della gamification quindi lavorando sulla user experience e sulla fruibilità la possibilità quindi poi di avere anche un report alla fine che nel caso in cui uno si si logga e si registra chiaramente dà la possibilità di avere nel report il proprio nome può essere condiviso sui social però può essere utilizzato anche in modalità anonima per fare dei test e esercitarsi anche perché una volta che ci si registra il test può essere ripetuto solo a distanza di un mese proprio per cercare di dare magari il tempo di approfondire le proprie conoscenze e competenze il test è attualmente in lingua italiana tedesca e inglese per questo infatti il sito è raggiungibile all'interno dell'indirizzo di skill.e io concluderei qua con questa parte di presentazione se ci sono delle domande è un piacere grazie grazie Alessio Misuri allora alla domanda che c'era è già risposto perché chiedevano a quando l'evoluzione verso il Digicom 2.2 e ci hai appena detto che ci state lavorando perfetto allora grazie molto per la presentazione chiarissima passerei adesso la parola a Viola Pinzi che aspetto di vedere in video rappresentante della Digital Skills and Job platform ecco Viola prego le lascio la parola grazie grazie a tutti allora faccio partire la presentazione giusto un secondo per condividere lo schermo perfetto la vediamo e adesso dovrebbe essere partita in schermo intero buon pomeriggio a tutti grazie di questo invito a presentare durante questo webinar sulle valutazioni delle competenze digitali come introdotto io faccio parte del team della Digital Skills and Job platform e lavoro a Bruxelles e la Digital Skills and Job platform è un'iniziativa della Commissione europea è coordinata dalla direzione generale Connect e quindi come anche introdotto è un diciamo un portale multifunzionale multiservizio con moltissimi contenuti relativi alle Digital Skills in generale a livello europeo ma anche comunque con molte informazioni che vengono dai contesti nazionali dai vari stati membri dell'Unione Europea e non solo e la piattaforma è stata lanciata l'anno scorso nel mese di maggio quindi a maggio 2021 quindi è abbastanza giovane un'iniziativa abbastanza giovane e come detto ha una serie di diciamo sezioni informative abbiamo sezioni informative su training opportunities funding opportunities anche buone pratiche diciamo da vari stati e a livello europeo ci sono informazioni comunque ovviamente su eventi relativi alle digital skills notizie quindi moltissime diciamo fonti informative raccolte in quella che abbiamo appunto definito come vedete qua anche nella home page la home of digital skills from across europe e nell'ambito della digital skills and job platform è stato anche appunto integrato uno strumento che supporta che vuole contribuire aiutare gli utenti a autovalutare le loro competenze digitali questo strumento è stato pubblicato nel dicembre del 2021 quindi anche esso uno strumento abbastanza giovane abbastanza nuovo l'idea e quindi poi insomma la commissione diciamo il finanziamento è venuto appunto dalla commissione europea questa è una collaborazione tra varie direzioni generali della commissione europea e lo sviluppo è stato poi concretamente realizzato da un consorzio di enti privati che è stato appunto era coordinato da entity data con altri poi partner tecnici di ricerca diciamo come visto anche per altri strumenti in particolare MyDG Skills e anche sull'introduzione generale diciamo dei varie tipologie di strumenti relativi alle competenze digitali si può dire che questo sia uno strumento in parte di autoriflessione e in parte di autovalutazione delle competenze delle conoscenze quindi avrò poi presenterò un po' con più nel dettaglio e a livello poi di accesso per gli utenti quindi concreta disponibilità dello strumento è stato pubblicato sia sul portale Europass sia su appunto la Digital Skills and Job Platform e da qui anche come potete osservare la collaborazione tra varie direzioni generali essendo Europass più diciamo coordinato dalla direzione Employment e invece appunto la Digital Skills and Job Platform dalla direzione Connect lo strumento è attualmente disponibile nelle 24 lingue dell'Unione Europea e più anche in novergese islandese turco serbo e macedone quindi questo diciamo ovviamente essendo uno strumento della Commissione Europea è stato sicuramente un valore aggiunto sarà ed è comunque un valore aggiunto questo è anche perché comunque il portale il portale Euroscience particolare è disponibile nelle varie lingue delle comunità europee forse lo avete visto usato utilizzato personalmente o anche a livello professionale pertanto ovviamente gli utenti possono trovare poi una volta selezionata la lingua dello strumento o del portale dalle quali provengono anche ovviamente trovare il questionario il test il test di GiaSkills nella lingua che hanno scelto diciamo di utilizzare per l'utilizzo del portale quindi qua vedete le home page di entrambi i portali europei a sinistra appunto la GiaSkills and GiaPlatform dove appunto è disponibile questo link anche nella home page e poi ovviamente lo strumento è presentato in varie altre sezioni del portale per avere diciamo proprio un accesso veloce al test e in modo similare anche sull'home page del portale di Europass che appunto per dire anche due parole su Europass è un portale europeo che sicuramente conoscerete che aiuta gli utenti a diciamo trovare informazioni relative al mondo del lavoro all'estero ma anche all'opportunità formativa in Europa e soprattutto sicuramente è conosciuto per diciamo tutto il supporto delle linee guida e gli strumenti anche online per la creazione del CV europeo e anche delle cover letter e quindi anche su Europass gli utenti come potete vedere sono invitati a diciamo prendere per fare questo testo delle loro competenze digitali già qui diciamo nell'home page gli obiettivi dello strumento diciamo sono abbastanza generali possiamo dire perché comunque questo è uno strumento che è stato concepito per i cittadini in un senso molto ampio cittadini che appunto vogliono hanno bisogno di comprendere da un lato ma anche di migliorare come abbiamo detto le loro competenze digitali e i lavoratori ovviamente non è particolarmente diciamo contestualizzato per uno specifico tipo di come dire di situazione personale da un punto di vista appunto del lavoro dell'apprendimento dei percorsi formativi quindi può essere utile appunto per persone che già lavorano in vari contesti ma anche appunto persone in cerca d'occupazione e anche persone in apprendimento e qui comunque come diciamo persone in apprendimento o studenti si intendono chiaramente in una prospettiva di lifelong learning voglio dire non è appunto mirato a studenti di alcune aree della scuola o comunque universitari ma veramente all'idea appunto che possesso utilizzato come strumento di supporto a questa continua comprensione valutazione revisione delle proprie competenze digitali e anche appunto adattamento chiaramente dei percorsi formativi quindi si può dire che come obiettivo molto generale ci sia qua l'intento di aiutare tutti gli utenti tutti i cittadini dell'Unione Europea a migliorare innanzitutto la comprensione di quali sono e di cosa sono le competenze digitali in generale poi ovviamente mirare la consapevolezza la comprensione la conoscenza delle proprie competenze digitali e chiaramente anche fornire uno strumento che sia abbastanza semplice accessibile per farlo in questo diciamo approccio autovalutativo e poi seguirne anche il progresso e come ultimo obiettivo chiaramente come abbiamo appunto detto anche con altri colleghi durante questo webinar su portare gli utenti nella scelta e anche nella costruzione diciamo nella autocostruzione di percorsi formativi questo è anche un elemento che citerò tra poco perché come abbiamo detto ovviamente anche il miglioramento delle competenze digitali di questo livello soprattutto relativa appunto alle competenze digitali diciamo del quadro europeo può avvenire può avvenire in molti in molti modi e tramite diversi diciamo percorsi che non sono necessariamente percorsi appunto di formazione o di educazione formale ma anche appunto tramite corsi brevi corsi online attività appunto pratiche eccetera dal punto di vista diciamo un po' più della struttura del questionario quindi del test in sé chiaramente anche questo è basato sul quadro europeo delle competenze digitali per i cittadini la versione 2.1 il questionario diciamo che l'utente ha a disposizione copre tutte e cinque le aree quindi informatica comunicazione collaborazione creazione di contenuti digitali sicurezza e risoluzione dei problemi e anche le 21 aree di competenza dall'altro lato invece in termini dei livelli di competenza che sono 8 nel quadro europeo 2.1 lo strumento copre i 6 livelli che vanno da foundation ad advance ma non il più alto che è quello che è coperto da livelli 7 e 8 o anche appunto in inglese highly specialized le domande del questionario sono state in pratica selezionate da strumenti esistenti vedete qui per esempio di Tecnalia della conta di Andaluzia o il digital stesso e poi ci sono un concetto di domande che invece è stato sviluppato i domandi originali sviluppato da GRC che è il Joint Research Center della Commissione Europea che è stato citato anche precedentemente lo strumento diciamo il questionario è stato dilato con un croccio crowdsourcing voglio dire che c'è comunque stato un gruppo di ricercatori dei vari consorzi del GRC che hanno collaborato e hanno proceduto diciamo alla selezione di queste domande e ovviamente anche alla creazione di quelle originali il questionario è anche in questo caso proposto sulla base di una rannomizzazione diciamo del pool di domande strutturali che sono circa 250 le domande iniziali sono di carattere più diciamo di autoreflessione e poi sono seguite da un set di domande più di conoscenza appunto su proprio abilità o conoscenze del relative alle competenze digitali che sono tutte in questo caso poi risposta singola multipla o di tipologia vero o falso la selezione delle domande nella parte del gruppo ricerca è stata fatta chiaramente in base alla compatibilità con l'obiettivo di di questo specifico strumento ma anche appunto sulla struttura delle domande ma dall'altro lato anche dalla necessità di differenziare ovviamente le domande tra le une tra le altre e poi come dicevo appunto il livello più alto in questo caso non è supportato l'altro è finalmente alla fine poi ovviamente è stato anche fatto diciamo una selezione in base a domande che fossero più generali perché appunto come si diceva questo strumento è stato sviluppato a livello comunitario per diciamo servire un po' le necessità che possono emergere in tutti i paesi europei pertanto comunque sono state esclose le domande per esempio che erano troppo relative al contesto o magari a degli strumenti molto specifici o delle applicazioni molto specifiche il percorso dell'utente è piuttosto semplice come avete direttamente senza dover creare un profilo sulle piattaforme il test diciamo la stima per il test è di circa 20-25 minuti e l'utente ogni volta viene diciamo a disposizione 30 domande quindi ogni test dal pool dei circa 250 domande abbiamo visto prima poi viene praticamente generato su 30 domande le domande iniziali proposte all'utente sono di questo tipo appunto più di autoreflessione e poi ci sono una serie di domande più di autovalutazione sulle conoscenze in questo caso hanno anche un timing e il test poi praticamente c'è la costruzione del test live quando l'utente lo sta facendo viene anche adattato in base a queste risposte iniziali come vedete vedere poi qua sullo screenshot il progresso è visibile in questo caso è solo appunto indicato il progresso generale nel test quindi sulle 30 domande è anche disponibile un'opzione non so quindi in questo caso ovviamente sono le quattro risposte possono essere appunto come vedete qua risposta multia piuttosto che vero falso o singola risposta e poi si può anche indicare appunto che non si è a conoscenza insomma non si può rispondere in termini diciamo di funzioni per l'utente i risultati sono sempre disponibili in pdf quindi questo nel caso per esempio dell'utente non registrato può alla fine del percorso scaricare i propri risultati in questa relazione appunto che è disponibile però può essere appunto i risultati possono anche essere salvati nei profili dei due portali quindi sia si può avere un profilo su europa su un profilo sulla digital skills and job platform e in questo caso ovviamente facendo il login prima di iniziare il percorso si possono poi ritrovare i risultati nei propri profili e anche in questo caso come abbiamo sentito da altri colleghi ripetibile in ogni momento e per quanto riguarda poi diciamo l'implementazione fatta nella digital skills and job platform ci sono anche alla fine dei suggerimenti per i training che in questo momento non sono ancora dei suggerimenti automatici per l'utente ma sono piuttosto una selezione di training che facciamo manualmente regolarmente sulla base dei nostri appunto sezione sulle opportunità formative e riceve l'utente anche una mail di conferma con una serie di suggerimenti al di là del link ovviamente ai risultati ma una serie di suggerimenti su come continuare il proprio percorso quindi come dicevamo il record individuale che vedete qua per esempio come esempio è disponibile ovviamente subito dopo la conclusione del test viene indicato il livello diciamo del profilo generale in questo caso intermedio e poi si può vedere anche la data del test e si possono vedere le cinque aree di competenza con una breve spiegazione per ognuna di esse sia il livello ovviamente raggiunto in termini di competenza ma anche la spiegazione e poi si può praticamente scaricare la relazione come vedete qua anche di nuovo personalizzandola quindi già il file con il nome eccetera quindi nel momento in cui si scarica la relazione così diciamo alla fine del test che come dicevo è una funzione disponibile sia per l'utente registrato che non si può in questo caso anche come dicevano anche altri colleghi personalizzarla con il nome che può infatti anche aiutare per poi condividerla utilizzarla per esempio sul luogo di lavoro presso il proprio dipartimento delle risorse umane così come appunto in contesti educativi di altra natura si può anche non comunque scaricarla senza nome in maniera tonoma se non si vuole ovviamente avere il proprio nome disponibile visibile sulla relazione e invece qua sulla sulla destra potete vedere come poi invece i risultati sono registrati sul profilo della platform questo per esempio è il mio profilo in questo caso fatto come potete vedere qualche test di prova e si possono vedere ovviamente i risultati così visualizzati in maniera quick in maniera veloce con il proprio profilo generale e le cinque aree con il livello di competenza per le cinque aree ma si possono anche poi riscaricare o rivedere cliccando sulle varie funzioni i risultati completi e come dicevo appunto il test è ripetibile in ogni momento e qua nel profilo ovviamente se si è registrati si possono vedere i vari i vari diciamo step quindi si possono vedere i vari risultati del proprio test nel tempo quindi non non è diciamo rimpiazzato dal test successivo ma rimane appunto tracciato nel tempo e questo comunque pensiamo sia una funzione molto utile infatti per gli utenti per poter poi vedere anche il loro progresso e tenere in qualche modo traccia dei risultati come dicevo dal punto di vista della digital skills and job platform in particolare il follow up diciamo che proponiamo agli utenti qua vedete diciamo la landing page la pagina finale dopo aver concluso il test e anche aver visualizzato i risultati ovviamente proponiamo di nuovo la possibilità di rivedere i risultati in ogni momento ma anche delle gallerie delle gallerie diciamo delle liste di selezione di training di opportunità formative che diciamo in qualche modo ovviamente non sono collegate ai risultati specifici dell'utente non al momento almeno ma diciamo sono così collegate invece alle aree di competenza del quadro delle competenze digitali quindi in base appunto digital literacy e così via e quindi poi l'utente è anche come dire invitato a visitare la sezione training opportunities le screenshot sono in inglese perché la platform al momento è solo in inglese però diciamo i percorsi formativi che abbiamo raccolto che comunque raccogliamo e aggiorniamo ogni settimana non sono necessariamente solo offerti in inglese perché poi ci sono forse appunto o strumenti che sono anche in tutte le altre lingue dell'Unione Europea ma anche appunto alcuni nazionali quindi questo è un po' diciamo il tipo di follow up che proponiamo al momento questo anche nella mail che viene inviata al completamento del test se ovviamente l'utente è registrato e ha quindi registrato quindi abbiamo la possibilità di inviare una mail e quanto riguarda brevemente per concludere diciamo i risultati come dicevo il test è stato pubblicato in entrambe le platform le piattaforme a dicembre 2021 al momento ci sono stati circa 100.000 questionari e mi dicono i colleghi appunto una media di circa 900 questionari nuovi questionari ogni giorno quindi 900 nuovi utenti che compilano utilizzano questo strumento ogni giorno al momento non siamo ancora nella possibilità di fornire fortunatamente dei risultati integrati nel senso appunto di un'analisi integrata dei livelli di competenza o appunto dei profili dell'utenza ma speriamo in futuro di poterlo fare e sempre in termini di attività ancora in continuo sviluppo e anche per un discorso di sostenibilità chiaramente continuiamo a promuovere lo strumento l'utilizzo dello strumento anche con attività diciamo a vari livelli soprattutto come potete immaginare tramite anche le collezioni nazionali per le competenze digitali come appunto Repubblica Digitale in Italia ne sono altre ovviamente in quasi tutti i paesi europei ma anche altre rete inclusi Centro Europass e altre comunque comunità diciamo digitali e anche appunto tramite la preparazione di materiali che possono essere utilizzati appunto da altre organizzazioni per promuovere a loro volta l'uso di questo strumento e anche similarmente come MyG Skills stiamo preparando la distribuzione dell'intero pacchetto del test come open source che verrà appunto poi distribuito tramite GitHub che è una piattaforma appunto per sviluppatori la quale si possono poi diciamo scaricare vari tipi di codici software e questo anche quindi sarà poi praticamente disponibile per ogni organizzazione che voglia prendere utilizzare reinstallare sul proprio portale ma anche ovviamente in futuro volendo poi espandere in altre forme questo anche non è ancora disponibile il pacchetto GitHub lo sarà speriamo nelle prossime settimane grazie mille della vostra attenzione se ci sono domande sono contentissima di perfetto grazie mille Viola Pinzi anche questo molto interessante vi ricordo che la collega Isabella Bruni ha messo in chat anche tutti i link dove potete trovare appunto questi strumenti di valutazione che sono stati presentati quindi direi da oggi non abbiamo più alibi e possiamo testare autonomamente il nostro livello di competenze digitali è molto interessante chiaramente anche il fatto di avere poi l'orientamento ai materiali formativi adesso passerei velocemente la parola a Marco Gui perché chiaramente ci tratterremo anche oltre qualche minuto oltre il termine allora Marco Gui dell'Università Milano Bicocca col quale vedremo lo strumento digitaliq quindi aspetto di vedere Marco in webcam eccomi qui ecco ti adesso accendo anche la webcam benissimo prego Marco si ti vediamo allora intanto buon pomeriggio a tutti provo a condividere il mio schermo e ditemi se vedete la pagina di benessere digitale che è centro di ricerca ti confermo che la vediamo benissimo allora io sono il responsabile di questo centro di ricerca che si chiama Benessere Digitale dell'Università di Milano Bicocca che è sostanzialmente un gruppo di ricerca accademico tra i vari progetti di cui si occupa questo centro c'è anche l'importante tema delle competenze digitali su questo noi stiamo lavorando dal 2007 forse anche prima se considero il mio dottorato che insomma riguardava un po' questo negli anni abbiamo messo in piedi una metodologia di rilevazione della competenza digitale che come diceva la dottoressa Bruni all'inizio è sicuramente nella categoria dei test di performance cioè misura la competenza digitale in pratica misura competenze e non solo conoscenze quindi pone delle situazioni pone il compilatore di fronte a delle situazioni dove c'è una risposta giusta e una risposta sbagliata ecco c'è in particolare questo scritto diciamo del 2011 che adesso ho sottolineato è il paper che ha diciamo lanciato questa metodologia che è stata riconosciuta a livello internazionale e che ha dato luogo poi a diversi strumenti diverse ricerche nel corso degli anni allora una cosa che di cui parlerò e che appunto era il motivo per cui sono stato invitato è il Digital IQ un test che ha promosso FastWeb e a cui noi abbiamo prestato almeno per una sua metà questa metodologia che avevamo sviluppato in ambito accademico questo test sostanzialmente è uno strumento di misurazione di competenze da una parte e attitudini dall'altro voi sapete che dal DigiComp 2.1 c'è stata questa distinzione tra conoscenze competenze attitudini e quindi questo test sono misurate entrambe diciamo queste due ultime dimensioni ecco bisogna chiarire subito che il DigiComp esclude tutta la parte operazionale così viene definita nella letteratura cioè la competenza digitale misurale descritta dal DigiComp dà per scontate tutte quelle competenze operative saper muovere i file saper accendere il computer cercare su un motore di ricerca e invece prende in considerazione le cosiddette competenze content related cioè quelle che si riferiscono non tanto allo strumento in sé ma come la persona gestisce il contenuto che lo strumento veicola sostanzialmente allora questo Digital IQ funziona con è un test gamificato è un viaggio spaziale come vedete da questa da quest'icona ed è organizzato su queste cinque aree allora riconoscerete certamente le aree classiche del DigiComp l'informazione la comunicazione la generazione di contenuti digitali la sicurezza abbiamo voluto aggiungere questa area che si chiama come il nostro centro di ricerca benessere digitale perché l'abbiamo aggiunta allora c'è da dire che il DigiComp già prevede un'etichetta con questo nome Digital Wellbeing che sta sotto l'area della sicurezza ma ci siamo resi conto diciamo nelle rassegne della letteratura internazionale che negli ultimi anni è emerso molto il tema dell'abuso delle tecnologie digitali e quindi la competenza digitale è diventata oggi anche la capacità di avere di arrivare un equilibrio tra l'utilizzo il non utilizzo e anche un equilibrio tra i diversi tipi di utilizzo dove per esempio l'attenzione non sia costantemente frammentata tra mille stimoli che è la cosa a cui ci spingerebbe più naturalmente il modo in cui sono costruite le interfacce delle attuali tecnologie quindi abbiamo aggiunto questa dimensione che è la capacità appunto di filtrare di non essere costantemente dentro un flusso distraente la capacità di dare attenzione ai compiti di programmare il tempo ecco il digital IQ è come dicevo costituito da un diciamo alla base un racconto di un viaggio nello spazio ci sono i diversi pianeti all'interno dei pianeti ci sono delle missioni alcune missioni riguardano le competenze altre missioni riguardano le conoscenze scusate le attitudini noi di Bicocca ci siamo occupati della parte sulle conoscenze mentre una società di consulenza People and Business Partners si è occupata della parte sulle attitudini qui solo un esempio si si entra in una a questa è stata completata si entra nelle diverse missioni e ci sono domande di cui adesso vi faccio vedere qualche esempio perché poi sono quelle della nostra metodologia alla fine del percorso si riceve un report che ha sia la parte di competenza sia la parte di attitudine digitale per farvi vedere un po' meglio diciamo in cosa consiste realmente questa metodologia di rilevazione vado a un secondo strumento che è quello su cui stiamo lavorando in questo momento più più intensamente questo strumento si chiama benessere digitale scuole e anche questo è uno strumento esistente uno strumento libero possono usare tutti i docenti e a nostra conoscenza è l'unico strumento l'unico test di performance validato con tecniche psicometriche del Ditch Comp esistente attualmente in Italia magari potrete smentirmi se ne conoscete altri però a nostra conoscenza finora è così dentro questa piattaforma ci sono una serie di contenuti per l'educazione civica e poi come vedete questo test di competenza digitale si tratta di un test questa volta che misura solamente la parte di competenza e che lascia invece la parte di attitudini digitali questo test è specificamente creato per le scuole e restituisce al docente un report sia in generale sia sulle diverse aree del Ditch Comp allora giusto per farvi capire qualcosa di come sono fatte le domande mi scuso se qua si vede molto piccolo però ve lo leggo un esempio di domanda nel nostro test è questa talvolta su Facebook compaiono dei post consigliati come quello nel riquadro rosso della schermata sottostante sotto vedete che c'è una schermata e c'è un riquadro rosso che mette in evidenza un post consigliato c'è scritto post consigliato secondo te di cosa si tratta sono delle pubblicità mirate a tutti gli utenti sono delle pagine consigliate da alcuni dei tuoi amici sono delle pubblicità personalizzate in base a informazioni che il social ha su di te sono dei contenuti segnalati dalla piattaforma in base alle tue amicizie ecco questo è un esempio di domanda come vedete si tratta di una situazione in cui c'è uno stimolo quindi c'è una situazione verosimile presa dal mondo reale un post che compare e ci chiede di identificare qual è la risposta giusta tra queste quattro questo implica in questo caso il capire che un social media come facebook ha delle informazioni su di noi e attraverso queste informazioni invia delle pubblicità mirate che sono ritenute interessanti per noi e quindi poi tutto appunto il meccanismo che è alla base del cosiddetto capitalismo della sorveglianza ora con questa piattaforma di cui in questo documento si leggono le basi scientifiche quindi da dove deriva quali sono i riferimenti nella letteratura come è stato validato perché la validazione di questo test ha portato via tanto tempo sono stati fatti è stata fatta una prevalidazione con più di 150 studenti e poi una grossa validazione con 3.400 studenti del decimo grado di istruzione cioè le seconde superiori quindi sono stati fatti una serie di verifiche della coerenza interna degli item sia come costrutto generale sia nelle diverse aree e invece poi della coerenza esterna cioè della validità esterna e cioè la capacità effettiva di questo test di misurare la competenza digitale noi abbiamo avuto abbiamo invitato le scuole a compilare questo questo test e a usare questo strumento come una risorsa nelle attività di educazione civica digitale che come sapete sono diventate obbligatorie nel novembre scorso abbiamo cominciato a raccogliere i primi 1200 report e i primi 200 test e abbiamo scritto questo report la competenza digitale degli studenti secondarii di primo e secondo grado adesso siamo a più di 4000 test raccolti e quindi a settembre uscirà un secondo report però questi 1200 distribuiti in maniera molto diversificata nei gradi scolastici negli ordini scolastici anche sul territorio ci danno già dei primi dati molto interessanti che in parte confermano quanto emergeva già da report interni del digital eq allora qui spero che vediate bene vediamo ve lo ingrandisco si vede bene questo questo grafico ok datemi un feedback se si vede bene sì 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 si vede perfetto allora questo questo test è formato da 32 item che vengono mostrati in maniera casuale vengono pescati da dei repository di domande il punteggio poi è riportato in una scala da 0 a 100 ecco qui potete vedere intanto come varia la competenza digitale nei diversi gradi vedete quel segno più continuo è la competenza digitale generale vedete che ha un'accelerazione la crescita della competenza digitale negli ultimi due anni della scuola superiore gradi 12 e 13 ma cresce nel tempo in modo diciamo costante anche prima ci sono delle competenze che sono piuttosto basse e vedete che la più bassa di tutte è la competenza di informazione di validazione o valutazione delle informazioni questo è un risultato convergente perché anche il digital IQ aveva rilevato questo è interessante perché prima invece si diceva che questa era l'area dove le persone nei test di valutazione si reputano migliori insomma invece noi abbiamo rilevato che questa è l'area davvero più carente ma non solo è l'area più carente ma è anche quella dove si vedono le maggiori disuguaglianze disuguaglianze per titolo di studio dei genitori per tipo di scuola e vedete che questa competenza ha un balzo particolarmente alto tra i gradi 9-11 e i gradi 12-13 quindi diciamo che negli ultimi due anni delle superiori c'è un salto per fortuna che porta non porta questa competenza a livello delle altre dimensioni ma comunque le avvicina vedete che la competenza di comunicazione è invece quella più alta ed è anche quella che cresce in maniera più regolare diciamo tra i gradi questo probabilmente si deve al fatto che questa è una competenza che cresce con la familiarità che in particolare durante la pandemia è aumentata molto ma anche il fatto che nella scuola c'è stato molta formazione per esempio sul tema del cyberbullismo che fa parte di questa dimensione che può aver aiutato e le altre dimensioni si situano diciamo vicine alla dimensione generale un risultato interessante che abbiamo rilevato è questo vedete questo altro grafico ecco qui si vede una cosa diversa cioè la relazione delle diverse dimensioni della competenza digitale e e la competenza digitale in generale con i voti autodichiarati in italiano degli studenti che hanno compilato il test e emerge una cosa interessante cioè almeno per quanto riguarda information and literacy che è questa competenza più in basso il predittore più forte del livello di questa competenza è il voto in italiano e abbiamo ragionato molto su questo risultato ovviamente non possiamo come dire interpretarlo solo come un causa-effetto perché questa è un'associazione che andrà studiata meglio però ci suggerisce che probabilmente la capacità di comprendere un testo la capacità di analisi che è anche insomma e di esprimere un proprio pensiero che è alla base insomma del voto in italiano e anche di altre performance come quelle dei testi invalsi è una precondizione molto importante anche per la competenza digitale di tipo informazionale e questo ci spinge a ritenere insomma che oltre alla formazione specifica sulle competenze digitali la capacità di lettura approfondita la capacità di scrittura siano delle competenze tradizionali della scuola che vanno mantenute e rafforzate perché poi sono dei forti predittori di competenza digitale informativa ecco un altro risultato di questo di questo report è il fatto che siamo riusciti a misurare la diciamo il gap di competenze tra prima e dopo la pandemia cosa che nel secondo report faremo in maniera ancora più importante quello che abbiamo trovato è che c'è stato un aumento della competenza digitale dopo la pandemia e questo aumento come dire in qualche modo compensa invece il learning loss di cui tutti avrete sentito parlare cioè la perdita di performance di apprendimento che c'è stata durante la pandemia però questi risultati ci dicono che come dire la funzione tradizionale della scuola di imparare a leggere criticamente i test e la realtà resta molto molto importante anche nell'ambito della competenza digitale noi stiamo continuando a lavorare alacremente su questo tema perché adesso con le opportunità offerte dal PNRR si pone il problema di cioè si pone l'opportunità di fare procedere questo test in particolare questo sulle scuole su cui siamo più impegnati in questo preciso momento e farlo diventare una sorta di diciamo permettetemi una metafora una sorta di test invalsi della competenza digitale ecco se le premesse ci sono ovviamente occorrerebbe mettersi in rete con altri progetti per unire le forze quindi io interpreto questo questo pomeriggio anche come un modo di mettermi in contatto con chi di voi potrebbe avere interesse in un obiettivo di questo genere per eventualmente coordinarsi e lavorare insieme grazie mille eccoci perfetto grazie anche Marco Gui ti chiedo poi se insieme alle slide ci fornisci anche questo report in modo tale che lo possiamo rendere disponibile tra gli altri materiali quindi nella scheda di eventi PA perché vi ricordo che come sempre nella scheda di eventi PA troverete sia il link alla registrazione che le slide che eventualmente ulteriori materiali chiaramente chi volesse entrare in contatto con i relatori di oggi perché avesse ulteriori dubbi o questioni o domande o anche proposte di contatto lo può mettersi in contatto con noi e faremo da mediatori quindi ringrazio tutti i relatori di oggi non so se volete comparire in video chi c'è ancora perfetto grazie molte vi ringrazio per la disponibilità il seminario è stato interessantissimo e secondo me possono uscire molte cose dal confronto anche tra questi strumenti e poi come dire possiamo già subito metterci alla prova vi ricordo allora che martedì prossimo non ci saremo torniamo direttamente martedì 21 e il tema sarà quello della produzione di risorse per la formazione online troverete tra breve la scheda su eventi PA quindi a questo punto non mi resta che ringraziarvi e darvi appuntamento tra due settimane arrivederci a tutti arrivederci grazie arrivederci buona serata grazie a tutti